Sì, guarda, ma qua dice che è un Handicard del 1967, perché nel 1967 non c'erano pure le auto. Sì, e aggiungi la tuta e le carte. Vuoi vedere? Vuoi un palloncino, Hermi? Vuoi un palloncino, palloncino? Allora, faccio il pazzo. Sì, l'abbiamo già visto prima. Ehm, 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 guarda, tu hai trovato un messaggio importante durante il taggetto che abbiamo fatto. Guarda, ma qui si leggo, qua dice abbandonate queste stafi in testo in tempo. Guarda, cosa non vado a dire secondo te? Guarda, te lo faccio vedere. Guarda, ma vada, te lo faccio vedere. Guarda, vado a leggere. L'è presa? Non so se l'è presa. Ehm, ehm, e beh, lasciamo stare anche perché forse è maledetto. Vabbè, non lo so. Forse, veramente, sarebbe, è così. Sì, la toilette, la toilette, e qua c'è il piccolo ristorante che si trova in tutte le Ikee. Ovviamente. È piccolo in una parolona. Ma, 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 ma ne è il ristorante qui? Qua ci sono dei fornelli. I fornelli. Allora, il ristorante si chiama Barney's Beach. Ma, 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 ma siamo già visti da qualche parte. Ma siamo anche in spiaggia qua. Ma in qualche parte va nel Sbiccio, ma non nell'Ikea. Vabbè, comunque, andiamo ad esplorare il nuovo negozio di videogiochi. Sì, hai visto? Hanno aperto un nuovo negozio di videogiochi qui in città. Comunque, Ehm, 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 lo sai, la città sta pensando di fare delle elezioni per il nuovo, diciamo, sindaco di questa città. Per te, chissà, non so, per ora non sappiamo ancora i candidati. Ah, è vero. Comunque, Ehm, dobbiamo anche comprarci delle case perché dobbiamo trovarci ancora un lavoro e comprarci delle case. Però abbiamo poco di soldi. Ah, giusto, è vero. Però comunque andiamo ad esplorare il primo negozio di videogiochi perché... Sì, poi andiamo... Sì, poi andiamo... Vogliamo... vorrei comprare delle case, ma ho solo 7 euro. Con 7 euro non ci compro manca la casa di mia nonna con 7 euro. Ma tranquillo, te la... Cioè, poi noi... Ehm, una casa... Una casuccia ce l'avevamo, ma... Sì. Nell'altra città. Sì, una casa dovevi ne avevamo. Ehm, mi sono perso, comunque. Brutta notizia. Questo negozio lo potremmo costruire un po' più vicino. Vicino. Ma... Qua ci porta l'IKEA. Ma cioè, è piccolo. È più o meno piccolo. Forse si trova nei pressi là. Si trova nei pressi là il negozio. E non sbaglio. Poi è la prima volta che siamo in sta città, non la conosciamo neanche. Sì, poi l'ho detto. Col tempo poi l'andremo a conoscere. No! Mi sono bagnato, vabbè, mi sono... Non ti preoccupare. Dopo ti fai un grande lavaggio secco. Ok, no, vorrei bagnarmi. Ok. Perché questo negozio non lo potevano costruire un po'? Io mi sto stancando. Dai. L'altro stanno ancora contando i soldi che gli abbiamo dato l'altra volta ai cassieri. Lasciamoli contare. Dai, è me. Ci stanno mettendo anni. Sì, secondo me ci metteranno solo anni per contare degli stupidi soldi. Sì. Noi, andiamo perché c'è... Comunque, mi sto ancora pensando a quel messaggio. Cosa vorrà dire? Forse questa città è stata maledetta. Ci sto riflettendo. Ci sto riflettendo ma... Ma ecco perché il motivo non ci sta nessuno per strada. Guarda, siamo arrivati al negozio di videogiochi. Sì. Oltre a questo parcheggio. Io spero che ci saranno delle macchine al resto. Eccolo il negozio. Andiamo a vederlo, Eme. Andiamo a vederlo, madonna. Quanti clienti che ci sono già. È vero. Andiamo, forza. È il centro commerciale dei videogiochi. Sì. Wow. Guarda! Guarda, hai ragione. Hai ragione, Eme. Guarda, è una pestiscia. Sono i più comprati. La tv con PS4. Costa 1000 euro. Che costa 600 euro. Poi c'è la tv con Nintendo Switch che costa 1000 euro. Wow. Io abbiamo solo 7 euro. E' il piano di sopra. Eme, io vorrei... Allora, più là, Eme, vorrei comprare un pc. Xbox! La nuova Xbox! Mamma mia! È una televisione maxi schermo. Che feco. Ma perché il vetro è rotto? Boh. Forse è un difetto di fabbrica. Eh, sì. Forse sono degli imprevisti. Guarda! Minecraft! Minecraft! Wow! Ma... Quello non è Java Edition. È Bedrock Edition. È Bedrock Edition. Il venditore si sarà sbagliato. Vabbè, forse... Questo venditore è un po' stupidino. Domani? Sì. Ci sono le sedi da gamer. Che costa... Che costa... Che costa 200 euro. E quella che si gira... 300 euro. Io prenderei... Quella da 300 euro. Ma cosa sappiamo? Per realtà che... Per 1000 euro. Eh, vabbè, ci credo che costa... 1000 euro. Sì, è certo. 1000 euro. Che costa 1000 euro. Quanto è professionale. Hai ragione. Una pisciccina. Ehi, mi sto svedendo. Sto svedendo. Sto svedendo. Ho una scassa in vetro. Aia. No, mi sto svedendo, c'è. Sì. Ma io sto già pensando... Quale lavoro potrei fare? Tu invece... Eh, anche io ci sto pensando sinceramente. Comunque... Xbox Series... Da 900 euro... È fighissimo. Ma ci dobbiamo sborsare un casino. Per avere... C'è 900 euro. Guarda, c'è anche uno serio. Che ingegno. 900 euro. Già siamo fortunati ad avere questi pochissimi soldi. È vero. Abbiamo solo 7 euro. Io ho 7 euro. Io ne ho 9. 7 euro. Che schifo. Che schifo. Dovremo assolutamente... Questi sono i più comprati. Dovremmo comprare anche questi qua. Ma io direi per il momento di comprarci roba che costi meno. Poi quando avremo un lavoro... Sì. C'è un sacco di money. Compreremo di tutto. Già siamo fortunati ad avere alcuni soldi per... Per comprarci un'acqua. C'è un cibo, ecco. Ma io direi... Eme, dopo andrei... Sì. Un piccolo acquario. Per dare tipo il benvenuto. Sì. Io andrei... I pesciolini. Che belli. Io andrei a visitare anche le case. Quello è... Quello è rarissimo. Questo è il pesce pagliaccio. Guarda. La wikipedia. Quello è davvero raro. Questo è un pesce pagliaccio. Eme, guarda. Sì. Comunque ora dobbiamo andare a parlare. Sì. Cioè dobbiamo andare a parlare con... Il proprietario delle case. Con l'hotel. Perché cioè non ce la faccio più a dormire. Sì. Poi io. Dobbiamo prenderci delle case però. Cioè dobbiamo prenderci degli hotel. Ecco. Comunque qualche volta dovremmo venire a comprare qualche... Sì. Qualche roba all'idea. Sì. Io dovrei... Per arrendare la casa vorrei un frigo. Qualche mobile. Tipo. Sì. Anzi. Ora prenotiamo. Anzi per non andare in un hotel. Facciamoci furbi. Sì. Allora tu quanti soldi hai? Sette euro. Sette euro. Sì. Io non ho nove. Mh. Per l'hotel ce ne vogliono tipo... Ehm... Diciassette. Sì. Perché in questa città se non lo sai ci vogliono... Ci vogliono molti soldi perché... Guarda che hotel di lusso ci sono. Sì. Però lo abbiamo fatto... Però questi soldi li vorrei spendere per una casa. Sì. Quindi direi... Ehm... Di affittarci una casa per il momento. Sì. E di abbellircela. Sì. Ma io direi di... Per un lavoro più decente magari... Troveremo una casa più figa. No? Io direi di prendere due case separate. C'è che prendere una casa un po' tutta mia dove la possa arredare. Ehm... Cetera eccetera. Poi non so se ci va di dare. Prendiamo due case separate ma sarebbe... Sarebbe più uno spreco. Oppure trovare due case vicine e diventare vicini di casa. Wow! Questo sì. Wow! Voi prego. Voi... Sì. Proprio voi. Ehm... Secondo voi. Ehm... Secondo... Secondo te. Quanti... E' qua il posto! E' qua il posto! Sì. Qui c'è il posto della casa. Allora qua cosa c'è? Qua c'è il ristorante. Vabbè. Guarda che bei posti che ci sono in questa città. C'è l'Ikea. Aspetta perfino l'Ikea! C'è guarda le case. Io... Una casa vicina all'Ikea servirebbe come il pane. Sì. Comunque queste case sono di legno. Avrei preferito una casa come quelle. Ma per il momento teniamoci queste. Quanto costa? Fortunati ad avere una casa. Sì. Io prenderei una. Io vorrei un po' questa casa lì laggiù. Laggiù. Come vuole? Ma te la faccio vedere. Allora ti dico io quale vorrei prendere. Io vorrei prendere questa. Oppure questa. Sono indeciso. Sono indeciso se prendere questa. Questa ti speccherebbe molto eh. Prendi questa. Grazie. Per il momento stai qua. Sì. Poi si vedrà. C'è anche la cucina. Per fortuna. E sopra ci dovrebbero essere i bagni e la camera da letto. Fammela vedere. Poi dipende quanto costa questa casa. Qua c'è il bagno infatti. Infatti. E qua c'è la camera da letto. Molto figa però. Però molto figa questa casa qua. Penso quanto la rideremo. Cioè metteremo i mobili qui. Sì. La TV sono qui. Sì comunque. Però. Dovevo distruggere questo letto però. Io lo vado. Ok. Ma quanto costa questa. Pagare. Quanto costa questa casa. Vandiamo a vedere. Oh costa. Cioè. Costa un pochino tanto. Quindi. Mi è rimasto un euro. Va bene. L'ho dovuto mettere nella cassetta della posta. Tipo M. Emè quando sarò ricco. Io vorrei fare una cassaforte dove contare tutti i soldi. Sì anche io. Per il momento visto che non abbiamo soldi. Siamo costretti a. A stare in questa casa. Sì. Poi quando arriveranno. Tipo i nuovi arrivati o qualcosa. Saprano. Sì. Per il momento li aiuteremo. Perché non hanno. Manco un euro. Manca una lira. Guarda. Branco. Secondo voi. Da 1 a 10. Scrivete nei commenti. Scrivete nei commenti. Branco. Sì. Ti ho messo. Allora. Questo è il mio letto. E quello che mi cerco. Scrivete nei commenti. Branco. Da 1 a 10. Quanto è bella questa casa. Emè. Quanti like devono lasciare. Da 1 a 10. Quanti devono lasciare i nostri amici. Che sono venuti a questo video. Guarda. Si vede anche il ponte. È vero. Ha una bella vista. Guardate. Mi faccio vedere meglio. Guarda. Non ci avevo fatto caso. Guarda. Hai ragione. Comunque. Mi scappa un attimo la pipì. Scusa. Devo andare in bagno. Allora. Allora. Emè. Ci vediamo più tardi quando tu vai in bagno. Ci vediamo. Sì. Ragazzi. Allora. Però questo. In questo bagno non ci sono. E anche le porte. Vabbè. Ciao. Questo messaggio mi sembra un po' più strano. Perché. Allora. Ora vorrei mettermi comodo da qualche parte. E parlare con voi. Vabbè. C'è già una televisione che non avevo anche visto. Allora. Guardate. Guardate questo messaggio. Che dice. Abbandonate questa città. Finché siete in tempo. Ho finito di fare i bisogni. Secondo me cosa farà? Andiamo da Eme. 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 Sì. Ok. Eccomi. Però. Eme. Ho paura di questo messaggio. Cosa vorrei dire? Ma stai tranquillo. Aia. Oh scusa. Non ti preoccupare. Cioè volevo darti una pacca scusa. Non ti preoccupare. Stavo dicendo ma stai tranquillo tanto forse o sarà uno scherzo o... No. Io non credo. Vabbè destino. Poi sono una leggenda. Per farlo. Ma guarda. Ma tu in strada vedi qualcuno per caso. Tu in strada vedi qualcuno per caso. A parte noi. Ehm. No. E allora. Forse staranno dormendo. Perché è pomeriggio. No. Ehm. Qua bisogna pagare un po' questa casa dai. Se no permette. Allora. Comunque non abbiamo soldi. Comunque ragazzi lasciate al minimo... Ehm. Quanto decidi? Quanti like? Tutte quelle che vuoi Eme. Di un numero che ti piace. Ehm. Facciamo... Facciamo dieci dai. Sono buono. Ok. Dieci like per il continuo di questa serie insieme a Eme. Ok. Yeah. Yeah. Io direi di andare a pagare i signori della casa che non c'è a me anche. Ehm. Sì. Ma lo faremo nel prossimo episodio. Sì. Quindi. Ciao ragazzi. Quindi amici per questo...